Il martello africano rende sempre più torri dall'estate italiana, sabato 24 giugno sarà un giorno da bollino nero in cui il picco del caldo, dovuto alla forte ondata di calore in transito sull'Italia a causa dell'alta pressione africana, toccherà picchi fino a 37-38 gradi, con temperature percepite fino a 40 gradi a causa dell'elevata umidità. Le città più bollenti saranno Bolzano, Milano, Roma, Bologna, Lecce e Firenze e le massime saranno superiori alla norma anche di 8-10 gradi. Da segnalare soltanto pochi isolati temporali tra pomeriggio e sera sui rilievi, mentre la siccità è destinata ad aggravarsi. I primi segnali di cambiamento giungeranno nella giornata di domenica ma solo al nord. Su queste regioni, insieme a un aumento dell'instabilità e quindi del rischio, quanto mai benvenuto, di rovesci o temporali, non più confinati ai rilievi, comincerà ad affluire aree leggermente più fresca che porterà i primi cali nelle temperature. Avremo quindi un'attenuazione della calura. Nei primi giorni della prossima settimana tendenza a temperature altrenanti al centro-nord con una calura meno intensa e insistente. Al sud la situazione rimarrà invece praticamente inalterata.